Anche a Napoli la conferenza che ha seguito per noi Peppe Annicelli. Il 27 ed il 28 febbraio la stazione marittima di Napoli ospita la seconda edizione di Hospitality Sud. La manifestazione nasce con l'intento di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta turistica e di sviluppare le sinergie nella filiera, mettendo a confronto i produttori di beni e servizi con gli utilizzatori finali al servizio del cliente. Tra convegni, stand e momenti di formazione professionale si punta sulla qualità e l'eccellenza per vincere la competizione globale. Hospitality Sud con la sua seconda edizione a Napoli, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio alla stazione marittima nel cuore della città. Non solo i titolari ma anche i manager, il personale del comparto alberghiero e del castralberghiero possono incontrare nel salone espositivo le aziende che presentano i loro prodotti, i loro servizi ma anche seminari di aggiornamento professionale. Veramente due giorni intensi, due giorni che pongono Napoli al centro della contrattazione e degli incontri business per il settore dell'ospitalità.